Il sole negli occhi e poi il rumore sordo di un urto. Quando il corriere ha fermato il suo furgone, ha capito subito di aver investito un pedone. Atterra un uomo che aveva battuto forte la testa. Ci è voluto a più di una mezz'ora perché in via Garibaldi arrivasse l'ambulanza da via Montegrappa. È stato lo stesso corriere ad avvisare il 118, spaventato anche dalle condizioni dell'anziano, che si lamentava. Poco dopo sono arrivati i soccorritori dell'automedica, partiti da Boiano. Loro hanno prestato le prime cure allo sfortunato e lo hanno coperto con i telitermici, per il freddo pungente delle prime ore del mattino. Le sue condizioni fin da subito sono apparse critiche. L'uomo, che è il padre del consigliere regionale Gianluca Cefaratti, è rimasto a terra a lungo, prima di essere fasciato e stabilizzato per il trasporto in ospedale, in codice rosso. All'arrivo al Cardarelli è stato sottoposto all'ATAC, forte l'emorragia che ha reso necessario il trasferimento al neuromed di Pozzilli.